Che la Polizia faccia un lavoro di grande qualità, lo riconoscono tutti e dobbiamo essere grati agli agenti che spesso poco attrezzati, certamente pagati meno dei loro colleghi europei, stanno garantendo in modo egregio con abnegazione e sacrificio la sicurezza del nostro Paese, sia sul fronte del terrorismo sia sul fronte della criminalità. Occorrerebbe un po' più di attenzione da parte della politica, occorrerebbero leggi più efficaci sulle espulsioni, occorrerebbe certamente anche un'attenzione maggiore da parte della magistratura circa gli arrestati della Polizia che spesso vanificano sforzi fatti dagli agenti per assicurarli alla giustizia. Bisognerebbe ricordarci di quello che fa la Polizia di Stato e con loro i carabinieri, con loro la Guardia di Finanza, tutti i servitori dello Stato, tutti i giorni dell'anno non solo in occasione delle feste e delle ricorrenze. Dopodiché occorre anche che cambino politiche che nonostante i dati fanno sentire questo Paese gravemente insicuro. Non possiamo essere soddisfatti di 14 rapine al giorno, non possiamo essere soddisfatti della caccia all'uomo sul criminale russo presunto tale che vediamo in queste ore in giro per l'Italia, non possiamo essere soddisfatti della situazione dell'immigrazione fuori controllo nel nostro Paese, quindi c'è molto da fare ma certamente non possiamo chiedere di più agli agenti di Polizia.